Dai, muoviamoci. Sbrigati, Nate. Merda, gli sbirri. Di qua! Cosa? Coraggio. Davvero? Dai, Charlie, qual è il problema? Sì, 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 ok, ok. Finirà presto, finirà presto, finirà presto. Ci sono, ci sono... Pensavo peggio. Ma che diavolo? Niente, sto bene. Non si passa. Aspetta, forse lo aggiriamo. Sì, sì, certo. O possiamo usare le maniere forte. Ottima idea. Il muro è troppo alto. Qui. Portiamo laggiù quest'affare. Ci penso io. Datti una mossa, bello. Non abbiamo tutta la cazzo di notte. Sì. Grazie per l'aiuto. Andiamo, datevi una mossa. Sì. Bene. La via sembra libera. Dovresti stare più attento alla testa, sai? Buonasera, ragazzi. Come va, tesoro? Sembra che vi abbia investito un treno. Ah, è stato un capolavoro, Claude. È filato tutto liscio. Sei silenzioso? Qualcosa non va? Beh, forse Charlie si è divertito un po' troppo per i miei gusti. Mi rimbomba la testa. Ma ti prego. Succede spesso quando è vuota. Devo essermi persa un bello spettacolo. Sì, puoi dirlo forte. È stato veramente catartico. Ah, divertente. Qualche problema? No, una passeggiata. Sicuro non ti abbiano visto? Lo escludo. Bene. Dietro quale porta si nasconde l'arpia? È entrata là dentro. In quella verde. È parecchio che sono entrati ed è ancora tutto buio. Pensi siano ancora là? Beh, l'ho sempre tenuta d'occhio. E nessuno è entrato. Ho uscito. Sono davvero necessari. Intendo. Non si aspettano di vederci. Non sottovalutarli, questa è gente che non scherza. Sì, sbusciamo dentro e subito fuori. Niente di più. Sì, va bene. Ma al primo dubbio, prima sparate, poi fate domande, d'accordo? Ragazzi, non so cosa mi abbia trattenuto dal prendere la valigetta e andarmene. Già, fingere non è il tuo forte. Ehi, fidati, non è nulla in confronto a quello che abbiamo. Beh, sai, alla mia età è meglio andare sul sicuro. Non te l'avevo detto. Oh, ti prego. Senti, spero solo tu abbia ragione. Sembra tranquillo. Secondo voi sono ancora là? Beh, per scoprirlo non possiamo certo sfondare la porta d'ingresso. Se stiamo qui fermi, perdiamo solo tempo. Entrerò a dare un'occhiata. Voi tre state qui. Ok. Tutto ok lassù? Sì, mi dispiace. Sì, mi dispiace. Sì, mi dispiace. Ol diavolo. Oh merda